Siamo oramai al sesto anno, è un evento di assoluta importanza per la nostra fondazione perché ci consente di riproporre all'attenzione di tutti quello che è il tema delle malattie neuromuscolari. Molti sono le persone che poi ci affiancano anche durante tutto l'anno e nel tempo. Mauro Uriassi è sicuramente uno di questi e con lui molti altri che cercano di sostenerci nell'attività della fondazione. Le forme di malattie sono differenti, alcune sono un ingresso graduale magari in giovane età, altre hanno un esordio devastante già in età adulta, in ogni modo sicuramente travolgono le abitudini, le vite e quelli che sono anche i sogni delle persone. Nonostante si dica che siamo una delle regioni meglio spiazzate, in realtà da quando la richiesta assistenziale ad alta intensità non c'è una risposta. Siamo ad un punto di riferimento grazie alla collaborazione delle strutture della clinica nevologica a cui noi apparteniamo, dell'ospedale degli Uniti e del lavoro di tanti colleghi, fisioterapisti, logopedisti che permettono una presa in carico globale dei pazienti con malattie neuromuscolari. Perché insieme alla ricerca che deve andare avanti anche grazie a questa solidarietà, la solidarietà serve anche per migliorare la qualità di vita quotidiana dei pazienti. perché non possiamo pensare solo alla ricerca che verrà, ma anche alla vita di tutti i giorni che è veramente difficile e complessa. Voi non vi fermate. Noi non ci fermeremo mai. Combatteremo sempre, insieme a loro.